In realtà il Comune di Torino non è che abbia una delega diretta, quindi noi il programma che abbiamo costruito prevede una serie di elementi che sono alcuni locali, alcuni sono degli indirizzi a livello nazionale. Per quanto riguarda a livello locale, quindi il tema dell'exmoi, come abbiamo detto più volte, qui è una situazione che non è stata gestita e ha scaricato comunque sui cittadini delle difficoltà e delle tensioni. Noi crediamo che la città debba tornare a appropriarsi di quello spazio e quindi lo faremo, partiremo con un censimento, lavoreremo con le associazioni, con chi lavora sul territorio perché è necessario che quella zona torni a essere presidiata e torni a essere in mano alla città.